Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video del canale, oggi porta Among Us che è un gioco che è uscito più o meno due anni fa ma che ha fatto il botto solo negli ultimi mesi clicchiamo su online, pubblica, find a match, ovvero trova un gioco clicchiamo su questa uh, siamo già in 8 su 10 questo sono io ragazzi, il mio personaggio, nero, di colore nero, con il cappellino verde come funziona Among Us? praticamente ci sono, c'è questo gruppo di astronauti, ok, uh ora vi spiego, c'è questo gruppo di astronauti, ok, buoni che deve fare delle missioni, ok, per sopravvivere e soprattutto deve sopravvivere dagli impostori mentre ci sono due, in una partita ci sono due impostori che in questo caso siamo io e il mio compagno quindi fortunatissimi, ok quindi siamo in due qual è la cosa bella di questo gioco? ok, kill, uh ok, ne ho ucciso uno, ne ho ucciso uno ragazzi ne ho già ucciso uno, avete visto, ho ucciso il blu e praticamente io devo uccidere qualsiasi persona lo hanno trovato, ok io mi sono nascosto nella ventola e vediamo uh, uh io, il mio compagno è il giallo e vediamo un po' come andremo io spero di ucciderli tutti dai, dai, dai uh, uh chi è? chi sarà stato? in realtà sono stato io ma io ovviamente non devo farmi non devo farmi scoprire, ovviamente votiamo votiamo il verde io voto il verde ragazzi perché secondo me ci sta cioè ovviamente non è lui perché sono io l'impostore però devo cercare di buttare fuori anche gli altri ovviamente in questo gioco ragazzi c'è questa specie di chat ok, in cui ognuno può dire la sua e può dire la sua ipotesi su chi è stato a uccidere e chi è l'assassino e poi dobbiamo votare chi secondo noi è l'assassino in questo momento hanno votato il celestino che non è perché sono io quindi, vedete non era un impostore quindi siamo ancora noi due e sono morti già due siamo rimasti noi, ok let's go cerchiamo di ucciderli il più possibile perfetto possiamo far finta anche di fare delle task ragazzi ovviamente che sono delle missioni possiamo far finta di fare delle missioni per farci per far avvicinare gli altri e poi ucciderli allora, dai andiamo alla ricerca di qualcun altro magari io posso uccidere tra 5 secondi 4, 3, vedete in basso a destra 2, 1 ok ok, adesso io posso già uccidere le persone però c'è solo un problema non vedo nessuno cioè ancora io non sto più vedendo nessuno ecco, è uno ucciso vittoria yes abbiamo vinto vi spiego il perché quando rimangono pochi tipo rimane uno uno della sciurma buono praticamente gli assassini vincono automaticamente perché tanto sono in due contro uno perché io ho ucciso questo, no? e il mio compagno ne aveva ucciso un altro quindi perfetto vittoria clicchiamo su play again chiudi eccoci qua perfetto io tengo sempre il colore nero let's go vediamo un po' di fare una buona partita abbiamo subito avuto la fortuna di essere l'impostore il che mi piace tantissimo io amo essere l'impostore e uccidere gli altri però non sempre è molto più raro che fare il gruppo che essere tra il gruppo degli astronauti dai 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 let's go speriamo che entri qualcun altro dai se non entra nessuno tra un pochino esco così facciamo abbiamo il tempo di fare un'altra partita ok no niente io esco find a game in public troviamo un altro game io direi questo e ci siamo ah adesso sono il bianco perché il nero è già occupato ma va bene così bene 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 aspettiamo che si riempia il match dai 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 perché non si riempie il match su 5 ok siamo in 5 dai 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 allora siamo in 7 wow bene 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 Il massimo di giocatori ragazzi In una partita ovviamente è 10 Partiamo Siamo in 8 Bene benissimo 10 vai possiamo partire Possiamo partire Siamo in 9 perché ho abbandonato Partiamo in 2 No perché un'altra Ha abbandonato il gioco Dai 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 muovetevi No un'altra ha abbandonato Perché abbandonano tutti Mi spiegate il senso Ok 8 bene Vediamo 2 1 ok si inizia Siamo in 8 si inizia vediamo un po' Ok Vediamo di quale parte farò Impostore ancora Ancora l'impostore ragazzi Insomma insieme al mio compagno è l'arancione Che è offline No ok no non è offline Bene Allora come prima dobbiamo cercare di uccidere Tutti Allora Lì ce n'è Lì ce n'è uno Raga l'ho ucciso L'ho ucciso raga avete visto Avete visto Quello si stava Stava facendo una sfida Di scandalizzarsi E l'ho ucciso Amanamente Bruttissimo Ok Mi sono allontanata abbastanza Qui c'è il mio compagno Dove cercare anche lui un po' di uccidere Però Compagno Mi devi aiutare Let's go Ok Facciamo find the game Dai 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 Comunque ragazzi Il gioco è troppo bellino Secondo me Soprattutto quando sei l'impostore Ma anche quando sei Uno della sciurma Un'astronauta Cioè è divertente Perché devi Riuscire a pensare a sopravvivere Soprattutto Ok Sono in color nero Perché il bianco è già occupato Quindi va benissimo Speriamo che stavolta Entri qualcuno Ok Siamo in sei Buono Sette Sette Buono Facciamogli entrare Otto Buonissimo Comincia ad essere buono Nove Dieci Vai Possiamo partire Possiamo partire Possiamo partire Ok La chat Stanno scrivendo Vedete Ai Ok Ciao Starting in tre Two One Zero Ok Vediamo un po' Ok Stavolta sono l'astronauta Buono Dai ci sta In tre partite Essere due volte Tre volte di fila L'astronauta ci sta Allora ho subito Da fare una missione qui Che non mi piace Questa non la faccio Non mi piace Allora Let's go Andiamo qui Devo Vedete In questa missione Devo localizzare Questa figura L'ho focalizzata Bene Quel pianeta Ok Entro qui Nella sala Decontaminazione Perfetto Let's go Corri 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 Dobbiamo fare Più sfide possibili Per aumentare La cosa di vincita La probabilità Di vincita Vado in sala Decontaminazione Ancora Uh Corpo Cioè Cadavere Ritrovato Sono morti Ben tre Wow Uh Scriviamo subito In chat Chi Come per dire Chi è stato Uh Ok I voti sono già iniziati Però non so ovviamente Chi votare Perché io non ho visto nessuno Uccidere nessuno Blue And purple Ok Peccato che il blu Non ci sia Un colore Allora Votiamo il purple 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 Viola Votiamo il viola Dai proviamo Vediamo Perché il blu È il blu chiaro Perché se no Non ce n'è altri Quindi secondo lui Sono blu chiaro E viola Secondo Il Già Il bianco Dai manca solo il viola Votare Ok Ok Il viola Viene eliminato Perché è stato votato Da più persone Speriamo che fosse davvero Un impostore Ovvero un assassino Yes Era un assassino Era un impostore Un impostore rimasto Vediamo raga Vediamo Secondo me È il celestino davvero Aveva ragione anche il giallo Allora Che devo fare così Perché Emergence meeting Ok Un'emergenza Hanno chiamata Uh Why Scrivo Perché Perché c'è stata un'emergenza Cioè Eravamo tutti lì Get blue Blue Ok Votiamo il blu Come avevo detto prima Ok 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 Blu Bam Ok Abbiamo tutti votato Ok Let's go Blu Fuori Speriamo davvero Che sia Che fosse Sì Abbiamo vinto Perché era davvero il blu E il celestino Yes Celestino e viola Quindi ragazzi Con questa bellissima schermata Vi lascio Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un bel like Quando vi vedete con tutti i vostri amici E noi ci vediamo Ad un prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.